Arrestato un altro latitante in Calabria. Questa volta si tratta di un cittadino dell'Unione Europea verso il quale era stato emesso un mandato d'arresto internazionale e che era ricercato dal 2022 per reati contro il patrimonio dovendo scontare la pena di reclusione in carcere per un anno e sei mesi. L'uomo è stato notato a Tropea durante un soggiorno vacanziero in un BNB. Qui è stato raggiunto dagli agenti della squadra mobile di Vibo Valenze del posto fisso di polizia della Perla del Tirreno che hanno provveduto immediatamente alla sua identificazione. L'uomo non ha mentito alle forze dell'ordine e ha ammesso di essere a conoscenza del mandato di cattura che gravava a proprio carico. Per questo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Vibo Valenze.